di essere qui, è una giornata ventosa, da un altro canto al mare e la poesia è un po' il vento parole che si sferdono, come diceva ieri sera il nostro amico poeta Roberto io sono contentissimo di poter concludere questa quinta edizione di Flussi diversi e sono certo che assieme ad Angelo, assieme alla Regione Veneto, all'Alpe Adria e a tutte le persone che hanno collaborato per questo evento anche nel 2013 riusciremo a fare la sesta manifestazione perché questa goccia che stiamo seminando, questo seme che abbiamo seminato questa goccia continua che annaffia questa poesia secondo me riuscirà nel tempo a diventare una bella pianta una pianta grande, cinque anni fa, quando cominciamo quando l'amico Angelo Tavoro venne da me in ufficio e mi disse passiamo questa cosa a Carle, questa poesia la perplessità erano tante, però oggi è uno scoprire qualcosa di importante per sé e per tutti noi quindi è un augurio quello che faccio a Carle, alla poesia di poter trovare in questo luogo un momento costante questa goccia costante che ci aiuta a vivere meglio e a respirare meglio grazie alla Regione Veneto, grazie a Marisa Zanzotto che è stata presente con noi in questi tre giorni è sempre presente, grazie a Fernando Bandini portiamoli le mani grazie all'associazione Bacca che è sempre stata a presenza e ci ha aiutato con i gazebo e ci ha sostenuto e grazie a tutti voi di essere stati qui con noi lascio la parola al dottor Angelo Tavoro per la Regione Veneto grazie benissimo, allora chiudiamo questa quinta edizione credo con soddisfazione per tutti perché abbiamo dimostrato che la poesia non è soltanto un'occasione per alcuni la poesia ce l'abbiamo tutti dentro alcuni riescono a scrivere, a pubblicare ma dentro ce l'abbiamo tutti quindi lo spirito è quello di creare una grande comunità di poeti che su cauli ogni anno trovi la propria occasione di incontro di dialogo e soprattutto di riconoscimento la poesia è un po' la leggerezza della vita ecco, noi dobbiamo avere questo spirito la leggerezza della vita che ci accompagni ci accompagni di anno in anno ma solo che ci faccia superare momenti di crisi come quelli che viviamo oggi io ringrazio il signore di Alpeandria per l'attenzione e soprattutto la fiducia che dà questa manifestazione che credo sia una manifestazione veramente internazionale nel senso che è nata come Alpeandria e mantiene questa anima questo riferimento lo manterrà sempre questo riferimento ad Alpeandria ringrazio il poeta ungherese che l'anno scorso ha rappresentato è stato il testimone di questa manifestazione e che quest'anno ha passato all'amico Mandini quest'onere ma anche quest'onore di poter scolpire nella pietra i propri versi io non so chi leggerà i versi di Ferdinando dopo se li leggi tu direttamente io direi ecco dopo chiederemo visto che ha scritto molto e non le quattro parole che chiedevamo chiediamo lui poi leggerà anche i propri versi grazie a tutti grazie a comunicarle e a voi presenti e passo la parola al segretario generale di Alpeandria il Pazano grazie a comunità di Caorle grazie a comunità di Caorle grazie a comunità di Regione Veneto per un weekend di grande poesia di grande impressione della prossima volta del prossimo anno grazie io credo che anche Gerda Sox possa essendo che oggi lui lascia di fatto il testimone ve lo passo fisicamente un testimone che con il croco grazie grazie a buon notificata grazie a tutti grazie a buon notificata grazie a plapo ho troppo defiledo i farg Yao simpo grazie apsi con una grande sorrisposta, che in un'angarico le parole in Lugovare sono lestibati. E io voglio tutto bene per i nostri amici di Kaorle, Veneto e per tutti che le storie e le storie. Grazie, grazie Gesa. Prima di lasciare una parola a Fernando Bandini, vorrei avere l'opportunità di lasciare la parola anche a Cassutti, che è stato uno dei miei elementi di questo contesto. Ma io credo che permettando i poeti della comunità, noi abbiamo semplicemente trascorso tre giorni attraverso la poesia, ma anche attraverso la comunicazione personale che ci ha permesso, io credo, di fare ulteriori passi in avanti nella conoscenza reciproca, nel cementare la nostra volontà di trovare non solo in quali forme nel futuro la continuità come ospicava anche l'assessore, come ospicava, scusate l'assessore, sia il sindaco sia il tappa. E soprattutto siamo contenti di avere qui con noi Fernando Bandini, dal quale per molti ci lega un'antica amicizia che sempre ieri e oggi stima, e anche Gesa Zecch, che è stato così simpaticamente vicino lo scorso anno e anche in questi giorni. Allora, che flussi diversi del IVA e che la comunità dei poeti al teatro possa caratterarsi e intensificare l'amicalità, come direbbero i cattolici, che la caratterizzano. Grazie. Prima di passare la parola a Bandini, allora un omaggio di flussi diversi al segretario classe, un calendario con i cinque poeti scompiti sulla roccia, sulla pietra, a Ghez, e anche all'amico Bandini, oltre al calendario, anche a una targa che ricorda questa sua presenza a flussi diversi. Prendo io, prendo io, prendo io, partecivo adesso, ti lascio la parola, per prendere il microfono dovrai mollare i palloncini. Allora, devo dire che tenere due palloncini in mano è difficile. perché uno non sta mai fermo. Allora, la poesia è un palloncino di quella leggerezza dello spirito che è stata evocata da Pavaro, ma ce n'è una leggerezza inquieta, il palloncino che non sta mai fermo, che gli viene voglia, chi l'ha in mano, chi fa lo svilu, e quello che invece sta tranquillo. Io mollerò nel vento questi due palloncini che rappresentano la leggerezza della poesia e si arrangino loro, quei loro incontri che fanno lassù, perché io non so come andrà a finire, incontreranno gli angeli, se incontrano gli angeli è un grosso problema, perché gli angeli non sono tutti dei personaggi miti, spesso sono anche delle persone molto incazzate e risentite col mondo. Quindi addio palloncini. prima di tutto ho promuovato, espresso il loro risentimento verso gli uomini. e la poesia intitolata S.M.S. a Paolo L. che ieri sera gentilmente è stata letta da Gesù. La leggo. Ti avviso che la festa che avevamo previsto per domani è sospesa. Sono arrivati, Paolo, gli assassini del sogno. Niente o molto poco resta delle nostre certezze, delle tante cose sperate, i lunghi anni d'attesa. Dicono che la festa è solo differita, ma adesso so per certo che progettare il tempo ho più breve la vita. E per me è troppo tardi. Più non sento Gionfante mormolarmi all'orecchio. Poetanti spring d'armini. grazie a tutti e al 2013. Grazie. Grazie. Grazie.